Un incidente ferroviario fra due trenni passeggeri alle porte di Karachi in Pakistan provoca almeno una ventina di morti. Giovedì mattina lo Zakria Express, proveniente da Multan nel Punjab, ha urtato il Farid Express, partito da Lahore e fermo al binario della stazione di Landi. L'incidente ha provocato almeno una cinquantina di feriti mentre i soccorritori tentano di liberare i passeggeri intrappolati nei vagoni ribaltati. Potrebbero essere un migliaio, secondo le autorità locali. Secondo il portavoce delle ferrovie pakistane, lo Zakria Express avrebbe ricevuto una segnalazione radio sbagliata. Gli incidenti ferroviari sono frequenti in Pakistan. A Multan lo scontro fra due treni a settembre aveva provocato quattro morti e oltre cento feriti.